ciao a tutti ragazzi qui è Bombermata oggi il video più importante dell'anno è arrivato il momento di fare il pacellone della serie a team 2022-2023 è tutto pronto ragazzi la stagione è finita, è il momento di trarre le conclusioni, di dare i nostri voti, di promuovere e bocciare le squadre del campionato italiano, è tutto pronto per il video più importante dell'anno mi chiedo di lasciare like al video, iscrivervi per il canale e attivare la campanellina perché ragazzi ci ho messo veramente l'impegno per questo video, per cui vi chiedo di supportarlo al massimo e condividerlo anche ai vostri amici lasciate inoltre un commento qui sotto per diciamo commentare la vostra stagione e dare voti diversi se non siete d'accordo con i miei, direi di cominciare dalla prima squadra Atalanta, per ordine alfabetico andremo, Atalanta ha guidato 7, devo dire una stagione secondo me non è andata malissimo, perché comunque l'Atalanta contando che non aveva la Champions League e nessuna Coppa Europea tra una domenica e l'altra, aveva sicuramente molto più riposo rispetto alle altre big italiane, devo dire che diciamo nei pronostici inizio anno era data anche più bassa, per cui un Atalanta che alla fine ritorna in Europa League e penso che il 7 se lo merita tutto seconda squadra, Bologna quest'anno l'ho venuta a premiare con l'8 veramente un'ottima stagione da parte di Tiago Motta e dei suoi ragazzi che sono cresciuti tantissimo, Bologna ragazzi che finisce la stagione nona in campionato con 54 punti complimenti al Bologna perché fa veramente una bellissima stagione 8 la terza squadra è la Cremonese 5 e mezzo allora la Cremonese diciamo forse rimarrete un po' stupiti per questo voto, secondo me quel mezzo punto che manca è perché la Cremonese non si è salvata se no ragazzi sarebbe stata anzi un'ottima stagione per la Cremonese, perché se no la Cremonese ragazzi arriva in semifinale di Coppa Italia, tutto sommato non fa una stagione pessima rispetto alle altre, comunque arriva a 4 punti dalla zona salvezza quasi una Cremonese che non si è riuscita a salvare un po' per la squadra, un po' per così però diciamo che una Cremonese che non è andata proprio malissimissimo Empoli all'Empoli ho dato 6 allora una stagione normalissima secondo me per alcuni aspetti vanno fatti i complimenti a Paolo Zanetti comunque molti giocatori sono cresciuti un Empoli che non è andata malissimo chiude il campionato al 14esimo posto con 43 punti alla fine si salva fa il suo un 6 normalissimo Fiorentina 6 e mezzo se dovesse vincere la Conference League il voto si alzerà a 7 e mezzo una Fiorentina che finisce il campionato all'ottavo posto con 56 punti poteva fare meglio in campionato si è lasciata qualche punto per strada diciamo ma disputa un'ottima Conference League dove arriva addirittura in finale nella quale affronterà West Ham mercoledì e poi ragazzi una Coppa Italia andata molto bene perché la Fiorentina di Vincenzo Italiano arriva in finale due finali per Vincenzo Italiano e un ottavo posto in campionato 6 e mezzo che si potrà sformare in un 7 e mezzo Inter 8 devo dire una stagione secondo me molto 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 sottovalutata da tanti esperti di calcio perché secondo me Simone Inzaghi quest'anno si porta a casa Coppa Italia Supercoppa e terzo posto in campionato un terzo posto ragazzi molto molto importante visto quelle che erano diciamo le quotazioni viste a metà anno perché comunque l'Inter in campionato 12 sconfitte ci si aspettava di più in campionato sicuramente ma c'è anche la finale di Champions se l'Inter dovesse vincere la finale di Champions il voto della stagione andrebbe a 10 Juventus 5 una stagione da da dimenticare per Massimiliano Alleri e per tutti i componenti della Rosa una Juventus che in super in Coppa esce alle semifinali con l'Inter in Coppa Italia in Europa League esce in semifinale con il Sevilla in campionato c'è la penalizzazione di 10 punti perché sul campo sarebbe arrivata terza la Juventus dobbiamo dirlo tutto però ragazzi comunque per un club come la Juventus anche la Champions League sarebbe stata diciamo riduttiva potevano fare molto meglio 0 titoli anche quest'anno 5 Lazio 8 e mezzo sarebbe stata una stagione da 9 se Mr Sarri avesse dato un pochino più di attenzione per le coppie una Conference League un Europa League diciamo buttate e anche una Coppa Italia alla fine meno buttata però comunque si poteva fare molto meglio nelle coppie ma la Lazio arriva seconda la miglior stagione in punti da quando l'ho dito è presidente complimenti alla Lazio che ritorna in Champions League e raggiunge l'obiettivo della stagione 8 e mezzo Lecce 8 una stagione da incorniciare per Mr Barone ragazzi il Lecce si salva con una giornata di anticipo sedicesima a 36 punti complimenti a Lecce che rimane nel campionato di Serie A Milan 6 ho deciso di dare il 6 la sufficienza ai rossoneri perché comunque raggiungono l'obiettivo base cioè quello del quarto posto e della qualificazione alla prossima Champions League per cui penso che i rossoneri tutto sommato questa cosa qui diciamo l'hanno fatta bene anche se c'è la penalizzazione da Juve e il Milan non sarebbe Champions sul campo una semifinale di Champions League comunque una Champions League diciamo nel complesso fatta bene secondo me il Milan ha fatto una buonissima Champions League Coppa Italia e Supercoppa meglio che non ne parliamo 6 tirato molto tirato Monza 8 una stagione da premiare per gli uomini di palladino ragazzi undicesima posizione 52 punti applausi per questa squadra per questa squadra che ha avuto delle difficoltà all'inizio che ha cambiato allenatore è arrivato un ottimo allenatore che è invigliato da tantissimi il Monza ragazzi fa una stagione ottima in campionato dove riesce anche a mettere in difficoltà le squadre più forti della Serie A complimenti al Monza ribadisco 8 Napoli 9 e mezzo la stagione del Napoli il Napoli vince lo scudetto ragazzi il 10 non l'ho dato perché si poteva fare meglio secondo me in Coppa Italia la Coppa Italia ragazzi quest'anno è stata un po' la pecca del Napoli perché diciamo che è uscita troppo presto con una squadra troppo più devole in Champions League tutto sommato al Napoli non riprimino quasi niente perché comunque il Napoli fa la miglior Champions League diciamo da quando esiste perché è il primo quarto di finale della storia quello fatto dal Napoli campionato perfetto 9 e mezzo che non può mancare Roma 5 una Roma pessima quest'anno perché non raggiunge l'obiettivo della Champions League cioè non arriva a quarta fa una buona Europa League ma perde in finale e vanifica tutto praticamente Coppa Italia male come il Napoli malissimo come il Napoli campionato alla fine che hai buttato si è arrivato sesto a 63 però ragazzi comunque la Roma con quell'atteggiamento di buttare il campionato per buttarsi tutto sulla Europa League alla fine è stata punita dall'Europa League e non raggiunge l'obiettivo 5 per la Roma Salernitana 7 una stagione tutto sommato buona da parte di mister Paolo Sosa e da parte dei ragazzi perché comunque si sono riconfermati si sono salvati con un buon mercato con una buona squadra la Salernitana ha messo comunque in difficoltà tante squadre di Serie A 42 punti 15esimo posto diciamo che non si può assolutamente recriminare niente bravi Sampdoria 2 ragazzi la squadra è la squadra peggiore del campionato a partire dalla società fino ad arrivare ai calciatori quest'anno è andato tutto storto l'unica cosa positiva è che è stata scongiurata la Serie D visto il nuovo arrivo della dirigenza nuova con Radrizzani per il resto ragazzi è tutto da buttare 2 alla Samp pessima spero di rivederla molto presto in Serie A Sassuolo 6 quest'anno il Sassuolo secondo me prende 6 diciamo un voto più basso rispetto agli scorsi anni il Sassuolo secondo me poteva fare meglio in campionato arriva a 13esimo con 45 punti non è stata la solita stagione da Sassuolo brillante che diciamo diventa la rivelazione del campionato quest'anno il Sassuolo non lo è stata Bologna Fiorentina Torino anche il Monza hanno fatto meglio rispetto al Sassuolo perciò ragazzi diciamo una stagione che si poteva fare molto meglio però la cosa positiva è che il Sassuolo ripartirà da delle ottime basi Dionisi Lauriente ci sono diversi calciatori che quest'anno hanno impressionato è un allenatore che secondo me non è male per niente fiducia Spezia allo Spezia ragazzi ho dato 5 perché comunque diciamo che come il Verona si è diciamo messa in un vortice diciamo di non uscita praticamente si giocherà lo spareggio all'ultima giornata con il Verona e vi ho detto tutto se ti salvi è sufficiente se non ti salvi è gravemente insufficiente 5 male Torino al Torino ho dato 8 una stagione molto molto importante quella di Ivan Juric e di tutti i calciatori all'inizio a quest'estate non erano diciamo dati tra le favorite viste i litici viste le tensioni ma il Torino arriva tra le prime 10 precisamente al decimo posto con 53 punti un Torino che mi è piaciuto un ottimo Torino bravi ragazzi quest'anno ve lo siete meritato tutto Udinese all'Udinese ho dato 7 meno erano partiti da rivelazione del campionato sembravano veramente la squadra più forte di tutte hanno strapazzato la Roma hanno fatto di tutto e di più poi man mano si è andato a calare ma secondo me hanno un ottimo allenatore e una squadra con dei giocatori veramente di qualità 7 meno Ellas Verona 5 stesso discorso dello Spezia ragazzi ci si gioca la salvezza all'ultima giornata succederà di tutto non all'ultima giornata ma allo spareggio ragazzi da Bomberman è tutto il pacellone è questo fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ragazzi lasciate un commento qui sotto con i vostri voti io vi saluto ci vediamo in un prossimo video